Ciao Battitolo, sicuramente una delle protagoniste oggi sia a Valorino, come ti arrivi, ci sono le avversarie che temi di più e cosa ti aspetti da questa gara? Allora, l'avversario che temo di più è la mia condizione fisica perché avendo da un medio la settimana scorsa è il mio primo su lunga distanza per cui la gara oggi sarà per me molto bene, quindi ho una certa età che si potete recuperare ormai dopo i 30 anni e tutte quindi le ragazze che ci sono oggi, le mie compagnie sono possibili avversarie e spero di riuscire ad onorare la gara perché è una gara che mi serve piaciuta tanto, è vicino a casa perché sono lì di Desenzano e spero di portarla a termine onorandola al meglio delle mie posizioni. Bocca al lupo allora! Bocca al lupo, grazie!